Questi cinque anni abbiamo lavorato molto come Consiglio regionale proprio per approvare delle leggi importanti per prevenire la violenza contro le donne e soprattutto per aiutare le donne che si trovano a essere vittime di violenze e soprattutto anche dal punto di vista delle donne che hanno dei figli che molto spesso dimentichiamo quando c'è una donna che subisce delle violenze ci sono dei minori che devono essere tutelati. Abbiamo lavorato con delle proposte di legge che sono diventate legge regionale e abbiamo lavorato con tutte le consulte per cercare di dare delle indicazioni utili come ad esempio ricordare che c'è un patrocinio legale per le donne che si trovano in difficoltà e devono denunciare questa violenza che ci sono dei centri antiviolenza che sono stati aperti, ci sono stati contributi per le case rifugio, ci sono delle istituzioni che sono al fianco delle donne e dei loro figli proprio per dare loro una risposta a questo grave problema.